Riguardando meglio l'ultima scena del finale della settima stagione di Clone Wars in cui compare per la prima volta Vader, ho notato questo minuscolo dettaglio in cui possiamo vedere gli occhi di Anakin tornare brevemente azzurri per qualche secondo, che sta a simboleggiare il suo ritorno al lato chiaro per un brevissimo lasso di tempo, per via dei ricordi di Ahsoka che ha avuto raccogliendo la sua Spada laser nella stessa scena. E un altro dettaglio che mi è saltato all'occhio sono stati i pulsanti che ha Vader sul petto della sua armatura, che sono gli stessi che ha praticamente in Rogue One e gli stessi che portano una nuova speranza, confermando tutorialmente che questa scena è ambientata nello stesso periodo di ambientazione di questi ultimi due film. E ditemi un po', voi gli avevate notati questi minuscoli dettagli?